L'Italia rialza la testa e con una netta vittoria per 3-0 sulla Francia torna in corsa per accedere alle semifinali delle ATP Cup in corso a Sydney a firmare il successo azzurro, Sinner e Berrettini che dopo le vittorie nei singolari sono tornati in campo per battere al tie break. Finale la coppia transalpina formata da Martin e Roger Vasselin. Con questo risultato l'Italia si porta ad una vittoria, ad una sconfitta al pari dell'Australia che in mattinata ha perso contro la Russia. Per passare il turno gli azzurri dovranno assolutamente battere proprio la formazione di Medvev nell'ultima giornata. Intanto Djokovic su Instagram ha annunciato che andrà all'Australian Open. Vorranno a tutti, vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari Andiamo 2022. La sua partecipazione al torneo era stata in dubbio fino a poco tempo fa per via dell'obbligo di vaccinazione. Il campione uscente in pratica ha ottenuto un'esenzione dalle autorità australiane che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel paese e dall'organizzazione del torneo che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no. Grazie. Grazie.